Ce la facciamo o no? Questa è la nuova pota Salve youtubers e benvenuti ad una nuova youtube Detto questo iniziamo I film iniziano nella boscaglia Più fitte in cui vediamo un protagonista Ciao Ma Un giorno a teletabilandia Tinky Winky scopriva che qualcuno Aveva versato la tabipappa sul pavimento Inizia a camminare E camminare E camminare E camminare Non ho mai camminato Ma non penso sia così noioso Dipsy era seduto con i coniglietti Ciao Dipsy Ciao Tinky Winky Era stato Dipsy A versare la tabipappa? Si si è lui dai Dipsy hai versato tu la tabipappa? Ma si dai che è lui Nooo Ghhhh Madonna sto vibrando Sto vibrando Chi ha versato la tabipappa? Eh? Non credo di aver capito Chi ha versato la tabipappa? Ma che cazzo di dialoghi sono? Sembra che parlino sotto una specie di delirio Dove si staranno dirigendo i nostri eroi Sulle alte colline Da nessuna cazzo di parte Ma che bello Crepate subito Speriamo agli altri mondi più atroci Quello è un tutto Quello è un tutto Non riesco A trattenere La figaggine Il gruppo di amici Che ora si sono quadruplicati Iniziano a camminare E scoprivano Po Beatamente addormentata Era stata Po A versare la tabipappa? Siiii Finalmente! Era da un'ora e mezza Che stavo aspettando questo momento Che ci crediate o no Quello era il finale del film Tabipappa! La YouTube Poop finisce qui Io come al solito non vi ringrazio di tutti gli iscritti Tutti i commenti e tutti i complimenti che mi fate Ci vediamo ad una prossima YouTube Poop! Ciao!